Gli alberi di via 20 settembre verranno tagliati, al loro posto verranno messi alberelli più piccoli. I lavori al via la settimana prossima, l'obiettivo dell'amministrazione è riqualificare l'area e tutti quelli che ci lavorano o ci abitano sperano solo si faccia un buon lavoro. Sulla volontà di riqualificare la strada sicuramente siamo d'accordo. Sul fatto di abbattere tutti gli alberi questo ci crea non poca preoccupazione. Che vengono sostituiti sì, io preferisco che vengono sostituiti. Se li mettono anche quegli alberi che fanno, che i fiorellini, che ci sono in certi parti della città che fanno i fiori, ben vengano. A me fa piacere e chissà che arrivi anche in via Rogatti l'illuminazione, che quando entriamo da qua a via Rogatti sembra il viale del tramonto. Il progetto era partito dall'ex assessore Borone ed è stato portato avanti anche da Len Luciani. I lavori partiranno mercoledì 20 aprile, costeranno 300 mila euro e al posto dei 24 alberi che verranno tolti saranno piantati altrettanti alberelli piccoli. Quindi per l'estate via 20 settembre sarà piuttosto assolata. Ma il Comune assicura che i lavori che non prevedono la chiusura della strada serviranno a salvaguardare anche la saluta delle piante. Noi andremo a realizzare delle tazze proprio dove l'albero avrà la sua collocazione precisa, dove non subirà appunto dei danni, dove appunto potrà crescere in maniera sana. Perché il problema delle alberature che sono esseri viventi, io lo ricordo, è che sono molto stressate in quella tipologia di strade.